Zanadrea Sementi Zanadrea Sementi si occupa della produzione e commercializzazione di semi. Da quest'anno abbiamo un nuovo marchio che è Sovescio Sementi che serve praticamente per la diffusione della tecnica del sovescio. Sovescio non più fatto con essenze singole ma miscugli di sovescio che garantiscono l'interamento di una sostanza organica molto più stabile e molto più eterogenea e completa a differenza di un normale inerbimento che può essere con favino o con altre essenze. Sovescio Sementi ha deciso di sposare la causa del sovescio per proporre l'aumento della sostanza organica all'interno del suolo con effettivi benefici per quanto riguarda la gestione del suolo, del vigneto e del frutteto.